bentornati su professione luce oggi vi presentiamo la kelvin led di floss troverete questa favolosa lampada sul nostro portale in offerta speciale alla sezione showroom la disponibilità è limitata e la consegna è garantita in 24 ore non lasciarti sfuggire questa favolosa occasione è offerta ad un prezzo davvero super conveniente la kelvin led è una semplice lampada da scrivania caratterizzata da un affascinante mix di estetica e di altissima funzionalità tecnologica la consigliamo per ogni ambiente moderno ultramoderno o classico dalla casa o all'ufficio la sua struttura è semplice e innovativa è caratterizzata da una base quadrata e due bracci mobili la testa anch'essa orientabile in tutte le direzioni ci consente di direzionare la luce a seconda delle nostre esigenze sulla testa abbiamo la tecnologia touch dimmer che con il semplice sfioramento ci consente l'accensione e lo spegnimento e inoltre ci consente di regolare l'intensità luminosa in base alle nostre esigenze ottima per lo studio o per il lavoro la luce led è diretta e calda per il massimo comfort visivo e per evitare abbagliamenti durante la lettura la kelvin led è disponibile in quattro colorazioni nero lucido bianco lucido antracite e cromo acquista in tutta sicurezza sul nostro portale professioneluce punto it troverai la selezione di kelvin alla sezione showroom scrivici a info chiocciola professioneluce punto it o contattaci allo 0 824 619 53 scoprirai tutte le nostre favolose offerte e i migliori suggerimenti per arredare i tuoi ambienti con il meglio del design